Rosa, come lo trovi Mattia come tronista? Eh, che stai passando Mattia come tronista? Qualcosa di simile? Sei arrivato nel momento giusto Eh, diciamo che mi sto un po' rivedendo in quello che sta passando Ah, infatti l'altra volta gli ho detto stessa cosa Gli ho detto no, però di là, perché poi in Pignoletto Ha detto no, perché di là c'era la sedia, c'era, no? Tutti i particolari diversi Senti, voi due tutto bene? Noi tutto benissimo Diciamo che bene, per me dire bene oggi è riduttivo Assolutamente Veramente una felicità che anche parlarne mi costa fatica Perché non riesco a parole a descrivere quanto siamo bene Cioè veramente So che ci tenevi tanto l'opinione di papà Sì Si sono conosciuti Sì, io temevo questo incontro Questo fatidico incontro E invece no, mio padre adora Pietro Si è innamorato, c'è lui viene a casa, mi abbandona Siamo con lui, escono insieme È tutto veramente troppo bello Le nostre famiglie si adorano Io adoro sua sorella, le adorano i miei fratelli È veramente tutto inaspettatamente vero e forte, forte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti